La Castellano Udas chiude al terzo posto la dodicesima edizione del torneo Casale San Nicola, disputato al Palado Almena di Biceglie nel weekend appena trascorso. Nonostante fossero in condizioni di emergenza, infortunio a Gianluca 13, i biancazzurri di Cici Marinelli operano un buon riscatto contro la Richi Salerno, imponendosi di 8 punti, 74 a 66. Le promesse per fare una buona acquistazione nel weekend che precede l'inizio del campionato c'erano tutte. L'approccio con i padroni di casa nel match di sabato però è stato sbagliato, tant'è che i locali sono stati sempre avanti, arrivando addirittura nella terza orazione ad avere 30 lunghezze di vantaggio. In settimana ripresa degli allenamenti per i cannibari, per recuperare forze presche per una torneo di serie B che si preannuncia assai difficile. Per la cronaca il torneo è stato vinto da Richieglie che ha battuto in finale Nardò, 74 a 58. Mimmo Siena, Speciale News, Web24.